Si chiude questa sera la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo, sei i candidati alla presidenza della giunta, Simona Sala. Si vota domenica e lunedì finale 15, questi i candidati presidente. Gianni Chiodi, commercialista, già sindaco di Taramo, candidato del Popolo delle Libertà, appoggiato anche da Liberalti Socialisti, Movimento per le Autonomie e lista civica Rialzati Abruzzo. La sinistra in Abruzzo si ripresenta con una coalizione tipo Ulivo di Prodi, una coalizione che non è stata in grado di governare il paese e vorrebbe governare l'Abruzzo. Io credo che invece gli abruzzesi apprezzeranno la scelta di chi è stata coerente. Il modello nazionale viene riproposto in Abruzzo. Carlo Costantini, avvocato, deputato dell'Italia dei Valori, candidato del centrosinistra, IDV, Partito Democratico, Rifondazione, PDC, Partito Socialista, Sinistra Europea e lista civica Democratici per l'Abruzzo. L'Abruzzo deve decidere tra il passato e il futuro. Il passato di Berlusconi, che vuole il nucleare, che vuole gli inceneritori, che vuole regolamentare l'accesso alla rete, è il futuro degli abruzzesi. Gli abruzzesi vogliono recuperare speranza e fiducia nel futuro. Gli abruzzesi il 14 e il 15 dicembre, tra il passato e il futuro, sceglieranno il futuro. Rodolfo De Laurenti, sa avvocato, deputato dell'Unione di Centro, appoggiato da Udc e Udeur. La destra e la sinistra hanno già governato in Abruzzo, hanno fatto un disastro, hanno umiliato questa regione. Noi proponiamo di cambiare, di scrivere una nuova pagina di storia con pulizia, con innovazione e con capacità. Inoltre, la destra, giornalista, più volte deputato, dirigente politico prima dell'MSI, poi di AN, tra i fondatori della destra. Suo slogan, legalità e lavoro. Ilaria Del Biondo, partito comunista dei lavoratori, precaria all'Università di Teramo, punta sul lavoro, buona sanità, rinnovamento. Angelo Di Prospero, lista civica per il bene comune, ingegnere di Pescara. Suo obiettivo, ridare la democrazia ai cittadini. Grazie.